Mario Basentini l'ho conosciuto, ragazzo assolutamente in gamba, una persona veramente in gamba, abbiamo fatto il passaggio di consegne. In effetti io mi sono sentito di dargli qualche suggerimento che lui ha colto subito, anzi addirittura lui mi diceva man mano che io parlavo mi diceva sai io ci avevo già pensato a questa cosa, quindi è una persona assolutamente in linea, è una persona che ha tanta voglia di fare e credo abbia anche tutte quante le competenze e i titoli per poterlo fare. Mi auguro per Levi un futuro che appunto come ho detto prima possa spaziare anche oltre perché Levi ha le qualità, ha le professionalità, ha la struttura per poter gestire anche altre cose che non siano soltanto la rete idrica e la rete fognaria, è la società più importante dell'isola personalmente la utilizzerei per fare anche altre cose. Ma in effetti si potrebbe allargare alla gestione dei rifiuti, si potrebbe allargare alla gestione dell'ambiente, lì poi c'è un po' una situazione un po' particolare perché ogni comune ha la società sua, però credo che una volta che i comuni si sono uniti per favorire questa uscita alla liquidazione del Levi potrebbero anche ipotizzare per Levi, è una società che è un po' il fiore all'occhiello dell'isola ecco, ha i mezzi, ha le strutture, ha le professionalità per poter fare tanto. Un bilancio assolutamente positivo da un punto di vista personale, da un punto di vista professionale, sono stati quasi due anni, il mandato doveva durare pochi mesi, in effetti si è steso per quasi due anni, posso solo che ringraziare tutti per questa splendida esperienza che mi è stata regalata, praticamente io sono subentrato a mio padre, una volta che è deceduto all'improvviso, non era nelle mie intenzioni, non era nei miei piani praticamente entrare a far parte del Levi, praticamente accettare questo incarico, me ne sono fatto carico ovviamente a seguito della morte di mio padre, ma devo dire che mi trovo assolutamente contento perché è stata una bellissima esperienza sia umana che professionale. In questi due anni abbiamo preso una società che era in liquidazione, che era destinata all'estinzione, siamo riusciti ad approvare due bilanci che non erano stati approvati dalla gestione praticamente precedente, 2020 e 2021, a seguito dell'approvazione del bilancio 2021, grazie anche alla collaborazione del collegio dei revisori, lo dobbiamo dire, che si sono comunque dimostrate le persone in gamba intelligentissime, siamo riusciti a fuoriuscire dallo stato di liquidazione, abbiamo messo d'accordo finalmente un po' tutti e sei sindaci dell'isola, siamo riusciti a fuoriuscire allo stato di liquidazione, dopodiché abbiamo avuto l'appalto per i lavori per il comune di Casamicciola, quelli straordinari del commissario Legnini, che già è stata una cosa importante, e finalmente poi siamo riusciti ad ottenere il tanto agognato incremento tariffario che ci ha consentito di ristabilire, di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario dell'ente. Eravamo arrivati a un punto che, diciamo, paradossalmente noi acquistavamo l'acqua dalla regione Campania quasi a un prezzo più alto rispetto al quale noi l'andavamo a vendere, perché persistendo lo stato della liquidazione, la Rera e l'Ec non ci riconoscevano l'incremento tariffario, quindi noi applicavamo ancora i prezzi di dieci anni fa, cosa che ovviamente ci metteva in grossa difficoltà economica e finanziaria. Adesso, finalmente, dopo la fuoriuscita della liquidazione, grazie anche agli auspici, grazie anche al lavoro del professor Perillo, il nostro consulente, che è stato veramente una persona ingambissima, siamo riusciti finalmente al dottor Marcello dell'EIC, al presidente Mascolo, siamo riusciti ad ottenere questo incremento tariffario praticamente per Levi, che ha fatto sì che adesso lasciamo una società assolutamente sana, una società che riesce a mantenersi e che potrebbe fare tantissime cose all'interno dell'isola, che non si vanno a limitare soltanto alla gestione della rete idrica e fognaria.